La buona dottrina va accolta, ma rischia di essere smentita da una condotta incoerente. Per questo Gesù dice, praticate ed osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agito secondo le loro opere. L'atteggiamento di Gesù è esattamente l'opposto. Egli pratica per primo il comandamento dell'amore che insegna a tutti e può dire che esso è un peso leggero e suave proprio perché ci aiuta a portarlo insieme.